videoripresa 4k a 60 fps 21 noni con honor magic 5 pro proviamo anche devo dire che così sembra davvero ottimo non c'è ancora tantissima acqua accediamo inseriamo un giro molto bello questo scorcio rino siamo a boffalora devo dire che appare tutto anche molto stabile diciamo che i primi test stanno andando abbastanza bene ok ciao